Pescara ricorda i tragici bombardamenti del 1943, il 31 agosto. Presidente, ci sarà questa cerimonia, ci saranno degli eventi perché è giusto non dimenticare? Assolutamente, infatti il titolo di questa celebrazione che ricorda il 76esimo anniversario dei bombardamenti del 31 agosto del 1943 è proprio improntato alla esigenza di non dimenticare. Dobbiamo conservare la memoria di quello che è accaduto, purtroppo anche delle nostre tragedie. E l'estate del 1943 rappresentò sicuramente una delle più grandi tragedie della città di Pescara con migliaia di morti. Noi sabato 31 agosto ricorderemo con due momenti quelle tragiche ore. Attorno a mezzogiorno, quindi vicino all'orario in cui avvenne il vero e proprio bombardamento del 31 agosto, Radio Mare che è il soggetto che comunica ufficialmente lungo la spiaggia, con un messaggio inviterà tutti i cittadini a un minuto di raccoglimento. La sera alle 19 qui davanti a Palazzo di Città ci sarà la cerimonia vera e propria con la deposizione della corona da loro al monumento ai caduti e poi un ricordo da parte dello storico Marco Patricelli e un concerto, il ricordo dei caduti, delle migliaia di caduti. Il numero preciso non fu mai individuato perché furono tumulati in fosse comuni e anche dopo la guerra, quando furono rimosse le macerie, furono trovati ulteriori cadaveri. Quindi comunque parliamo di migliaia di vittime di Pescara. Insomma una grande tragedia della nostra città che dobbiamo ricordare perché non ce ne siano più di tragedie così.